Io? La prima volta l'ho fatto sulle scale del palazzo comunale. È facile, basta iscriversi ad iModena, ti arrivano username e password via sms e poi lo puoi fare dove vuoi. Lo puoi fare mentre vai in pausa pranzo e devi spedire una mail urgente. Lo puoi fare mentre sei al mercato albinelli e ti serve una ricetta con la verdura di stagione. Lo puoi fare ai giardini pubblici mentre scatti una foto a tuo figlio. Lo puoi fare al Novi Park per caricare un video appena girato. Lo puoi fare al Museo Casa Enzo Ferrari e uploadare le foto più belle in tempo reale. Lo puoi fare bevendo una birra. Aggiorni il tuo blog mentre siedi a un tavolino. Lo possiamo fare sempre e in tutto il centro storico. Siamo liberi di connetterci alla nuova rete iModena 24 ore su 24. A Modena lo facciamo dove ci pare. E tu? Grazie. Grazie.